Il liceo Lanza di Foggia apre le porte alle manovre di primo soccorso proposto dalla SIS 118, la società italiana Sistema 118, presieduta dal professor Balzanelli e su suggerimento del dottor Vincenzo Colapietro, medico dell'ASL di Foggia e già direttore facente funzioni della centrale 118 di Capitanata, unico referente in provincia di Foggia della SIS 118, l'idea di poter insegnare e trasmettere agli studenti le manovre di primo soccorso è subito stata accolta dall'Istituto Foggiano che ha organizzato le giornate di formazione indirizzando il corso alle quarte e quinte e al primo anno del nuovo indirizzo biometico dell'Iceo Lanza. Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto e lo abbiamo inserito nel più ampio indirizzo biomedico che abbiamo fortemente voluto lo scorso anno e che vede il suo inizio proprio in questo anno scolastico. Crediamo fortemente nella sensibilizzazione della formazione dei ragazzi sotto questo punto di vista e quindi insomma un percorso di questo tipo così specifico non può che renderci entusiasti e soprattutto far toccare con mano ai giovani studenti del biomedico ma anche più in generale della scuola appunto questa tematica e quello che poi sarà anche un percorso che incontreranno nel proprio studio. Il corso ha l'obiettivo di formare gli studenti rendendoli pronti ad intervenire nei casi di emergenza con manovre di primo soccorso, tecniche di intervento che possano rivelarsi indispensabili e salvavita. Fare in modo che i ragazzi già sappiano quali sono i modi migliori per gestire quello che può succedere nella vita comune che è quindi come tamponare una ferita, come fare un massaggio cardiaco in caso di arresto cardiorespiratorio e come disostruire le vie aeree in caso di ostruzione delle vie aeree. Sono nozioni di base che appunto la SIS sta cercando di diffondere il più possibile già in età scolare. Un progetto che la SIS 118 porta avanti dal 2017 e che continua in tutte le scuole del territorio pugliese. Un progetto che potrebbe entrare anche in altri settori e ambienti lavorativi vista la sua importanza. Sarebbe opportuno farlo, diffonderlo il più possibile, che ne so, i farmacisti, i commercianti in modo che anche l'arresto cardiaco in strada, nell'emore che arrivi il servizio di emergenza qualcuno possa sopperire ai tempi di intervento che ovviamente sono tempi tecnici indispensabili affinché un'ambulanza arrivi sul posto. Quindi al di là delle scuole queste sono nozioni che più persone le conoscono, più vite si salvano.